Come hai avuto a rapportarsi con gli altri? A rapportarsi con gli altri, perché inizialmente ero abbastanza timido. Dopodiché, con questo cammino di cinque anni, specialmente di liceo, sono riuscito ad aprirmi e a riuscire a parlare di fronte a tutti. Quest'anno sono diventato rappresentante dell'istituto e ho dovuto parlare di fronte a 2.000 studenti. Avevo già le idee chiare da piccolo, anche perché sapevo che il mio cammino era un cammino scientifico. Dall'anno scorso ho pensato di scrivermi in fisica. Per poi specializzarmi ho in fisica di particelle e in astrofisica, anche perché sono campionato internazionale dell'astromomia e non so cosa scegliere tra le due. Ho astrofisico, fisica di particelle, anche perché mi piace molto quello che hanno fatto al Cerno di Ginevra, per esempio. Ho ricercatorio e ho anche insegnato universitario. So risolvere i problemi di fisica, so anche essere un buon amico. Avere molti amici. Cioè rimanere solo è brutto, è molto più bello parlare con gli altri, sapere che si può contare su altre persone. Grazie a tutti. Grazie.